La scorsa estate i pasticciotti sono andati a Rimini per visitare Italia in Miniatura, il parco tematico delle miniature e del divertimento. Ecco cosa abbiamo visto. Abbiamo passeggiato tra una regione e l'altra alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali del nostro bel paese. Siamo saliti sulla monorotaia per ammirare l'Italia in miniatura anche dall'alto. Guarda che spettacolo! Il nostro stivale si vede proprio bene! Ci siamo concessi un piacevole viaggio in gondola tra gli spettacolari canali veneziani e ci è sembrato davvero di essere a Venezia. Ed ecco Piazza San Marco con il suo campanile che sono solo 5 volte più piccoli della realtà. Questo viaggio ci ha fatto venire fame così abbiamo gustato un ottimo pranzo al ristorante del parco seguito da una granita multicolore e ovviamente da un buon caffè. Nel pomeriggio ci siamo immersi nella foresta equatoriale e ci siamo fotografati con una bellissima ara dalle ali verdi. E poi, visto che ci piace molto Pinocchio siamo saliti sul trenino che ci ha fatto rivivere tutti i momenti salienti dell'intramontabile storia di Collodi. Guarda, c'è anche la fata turchina! Guarda, c'è anche la fata turchina! e infine ecco la balena! Significa che ormai siamo alla fine della storia. E prima di tornare a casa, abbiamo fatto due o tre tuffi nel brivido, a bordo di un tronco d'albero, attraverso le rapide di un fiume alpino. È stata una gita davvero indimenticabile. Se questo video ti è piaciuto, fai mi piace e iscriviti al nostro canale. Te ne saremo molto grati. Ciao e al prossimo video!